Il Paradisi delle Signore 9 Anticipazioni, Marta ritrova l'amore. La prima anteprima del Paradisi delle Signore mostra a Marta innamorarsi di nuovo nella nuova stagione della SOP. È un amore senza ostacoli oppure dobbiamo continuare a lottare per la felicità scopriamolo insieme. La nuova stagione del Paradisi delle Signore è alle porte. Da questo nuovo anno fino al 9 settembre 2024 riprenderanno, diventando sempre più rari, le prenotazioni pomeridiane presso i grandi magazzini di Milano in collaborazione con Roberto Landi e Marcello. Ci saranno molte novità e molti nuovi personaggi. Uno di loro fa battere forte il cuore di Marta e la prepara ad una nuova storia d'amore, ma soprattutto a una nuova avventura come pubblicitaria della Galleria Milano Moda. Anteprima Ladies Paradise, Marta aiuta Umberto a Milano Moda Galleri quando Matilde e Flora se ne vanno, Umberto si mette nei guai. Il signor Guarnieri troverà presto una nuova stilista, Giulia Furlan, ma avrà bisogno di qualcuno che lo aiuti con le idee pubblicitarie. Il comandante conta sull'aiuto di sua figlia. La figlia si interessa agli affari del padre e, senza giocare sporco, contribuisce a contrastare la concorrenza con il Paradisi delle Signore. La ragazza, ormai lontana da Vittorio, cerca di concentrarsi sul suo nuovo lavoro, cercando di non pensare all'amore e ai sentimenti falliti nella sua vita. Ma il destino ha pensato di sorprenderli. Anteprima Il Paradisi delle Donne, Marta ritrova l'amore con Enrico Brancaccio Forte e il casta all'interno della sua OP Il Paradisi delle Signore, con tante nuove aggiunte attese nei prossimi mesi. Tra loro c'è Enrico Brancaccio, interpretato da Tommaso Santo, ex carabiniere amico di Armando che accetta un lavoro come magazziniere al Paradiso per cambiare vita. Il ragazzo si rivela una persona molto misteriosa e deve nascondere a tutti il suo passato. Non dice a nessuno che ha una figlia e all'inizio si sa poco di lui. Tuttavia, Marta esaminerà la sua vita e farà luce su di essa. Guarnieri si affezionerà molto al nuovo arrivato e tra i due nascerà l'amore. La figlia di Umberto vedrà battere di nuovo il suo cuore, ma non si aspettava che accadesse così presto, ma si aspetta che questa storia d'amore sia tutt'altro che facile. Trama e Anteprima Il Paradisi delle Donne, Marta scopre il segreto di suo padre Siamo abituati al fatto che le storie d'amore nate nel Paradisi delle Signore non sono facili, non tutte, e non ci stupiremmo se anche il rapporto tra Marta ed Enrico non fosse facile. Ci sono tutte le condizioni perché il loro rapporto diventi instabile. Brancaccio nasconde un segreto e sicuramente non vuole che nessuno lo sappia. La signora Guarnieri potrebbe non essere contenta del passato oscuro dell'uomo di cui è di nuovo entusiasta. E di conseguenza potrebbe finire per prendere le distanze da lui e litigare con lui. Ma l'ostacolo che non la renderà del tutto felice sarà senza dubbio la scoperta del complotto del padre e del tradimento nei confronti dell'amata zia. Marta scopre che suo padre Umberto sta complottando contro Adelaide e Marcello, e la cosa non le piacerà affatto. Quindi non solo si allontanerà da lui, ma si allontanerà anche da Tancredi. Detto questo la situazione a Villa Guarnieri non sarà delle migliori e guarderemo con grande passione alle soluzioni che le nuove puntate ci daranno.